Tutti assolti perché il fatto non sussiste e la sentenza di primo grado per i quattro imputati per la morte del turista spagnolo Daniel Trezor Snell che il 19 ottobre 2017 morì a causa di un frammento di soffitto che si distaccò dalla Basilica di Santa Croce colpendolo in modo fatale. L'accusa per Irene Sanesi, ex presidente dell'Opera di Santa Croce, la presidente Stefania Fuscagni, l'ex segretario generale Giuseppe De Micheli e il tecnico responsabile Marco Pancani era di omicidio colposo. La difesa ha puntato sul fatto che il reato si verifica quando la regola cautelare viene violata, cosa che non è avvenuta. Ci veniva addebitato di non aver messo in atto una serie di tecniche di controllo e di monitoraggio del complesso monumentale che noi credo abbiamo dimostrato in modo convincente non essere parte delle acquisizioni scientifiche né di oggi ma a maggior ragione dell'epoca in un contesto come quello del complesso monumentale di Santa Croce è caratterizzato da un impegno anche prosaicamente in termini di quattrini molto significativo per il restauro dell'intero complesso monumentale nell'arco di un significativo arco di tempo. L'Opera del Duomo dal 2002 ha speso 23 milioni di euro in 20 anni per interventi di restauro e manutenzione eppure ribadendo in una nota la vicinanza alla famiglia del turista spagnolo esprime soddisfazione per aver visto riconosciuto il proprio impegno per la tutela del monumento. Adesso spetta la procura valutare l'eventuale appello. È possibile che lo faccia appello così come è possibile che letta la sentenza di assoluzione e decida di prestare acquiescenza. Fra 90 giorni le motivazioni della sentenza.